Eccolo qua. E' ancora in colore il maestro? Oh, questa volta addirittura è inferocito. Oh, che brutta serata si prepara. Ma lei lo sa com'è il maestro? Se gli avesse detta una sola parola gentile. Ma io non cedo mai. Ma la donna non cede quando prega. So io come si fa a conquistare il cuore degli uomini. Un sorriso. Un'occhiata. Un'espressione civettuata. Una promessa fatta da peggiare dello sguardo. Possono ottenere tutto. E nessuno resiste al bel sesso.